Mamma che freddo, però ci ha riscaldato la Lazio, senza pubblico non ci so stare, sia una cosa brutta, abbiamo vinto ma è una serata che ricorderemo per questa assenza della gente laziale, però insomma è stata una bella Lazio, la cosa curiosa è che non l'ha fatto un azzi nel finale quando è andato quasi, voleva andare sotto la curva, ma insomma non l'ha fatto, perciò ha salutato, ha salutato carinamente tutta la curva nord ed è stato molto bello, poi è bello però i tifosi fuori lo stadio che hanno cantato, hanno cantato la Lazio e questo è il grande affetto, il grande amore per i tifosi della Lazio che meritano, non meritavano questa cosa, però abbiamo vinto 3-1, complimenti a Cosa che entra nella storia, ciao a tutti e forza Lazio.